Il problema sul diritto è questo, quando tu prepari hai la mano troppo vicina, troppo vicina al corpo e il piatto corne quando va qua fa questo e questo ti fa perdere tempo. Questo comporta che quando tu stai in campo hai bisogno di più tempo, allora in una posizione più arretrata e colpisci la palla quando scende. Dobbiamo cercare, e nel tennis di adesso è importante stare vicino al campo, prendere la palla quando sale. Quindi per correggere questo faremo un'apertura più verso l'esterno, cercando di concentrarci che il piatto corne guardi in basso. De maniera di fare questo ci farà guadagnare più tempo, il movimento sarà più breve e all'esterno tempo avremo più distanza laterale e avrà maggiore potenza. Ok? Proviamo a vedere se viene. Vai! Tieni! Questo buono? Ottimo! Bravo! Perfetto! Sempre all'esterno! Lì! Bravo!